Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Sono Daria Colombo e sono delegata alle pari opportunità di genere del Sindaco Sala. Oggi iniziamo una serie di incontri della web radio del Comune di Milano che abbiamo voluto chiamare l'altro sguardo. E l'altro sguardo vuole essere proprio quello delle donne, che è uno sguardo certamente diverso da quello maschile. È uno sguardo al quale storicamente è stata data molta poca voce e che ancora oggi spesso fatica a farsi ascoltare. Ecco, invece noi pensiamo che questo sguardo di questa voce la nostra società abbia estremamente bisogno. E così settimana dopo settimana tratteremo svariati temi, non necessariamente femminili, ma facendoci aiutare di volta in volta da un esperto del tema che sceglieremo. Non solo, sentiremo anche punto di vista di varie persone che operano sul territorio e che ci offriranno la loro testimonianza. E allora veniamo all'argomento di oggi che naturalmente non poteva prescindere dalla stretta attualità la pandemia che sta sconvolgendo il nostro paese e il mondo intero. E lo facciamo parlando appunto di donne, non per partigianeria, ma perché ormai tutte le fonti indicano come in Italia questa tragedia la stiano pagando soprattutto le donne. Diciamo che tutte le fonti dal Gender Equality Index 2020 all'analisi ASVIS che segue l'andamento relativo agli obiettivi dell'agenda ONU 2030, alla Caritas Ambrosiano, alla Sottosegretaria, all'economia, guerra. Insomma, tutti ci dicono che tra le categorie più colpite dalla crisi economica ci sono soprattutto le donne. E allora di questo parleremo con la professoressa Paola Profeta, docente di economia presso l'Università Bocconi di Milano, che ringrazio molto per aver accettato il nostro invito. Buonasera professoressa. Grazie davvero. Giro a lei la domanda, che lei è davvero un'esperta di questo argomento. Perché è avvenuto e avviene questo? Perché le donne sono così penalizzate in questa situazione? Le donne sono sempre più vulnerabili degli uomini, purtroppo, sul mercato del lavoro. Lavorano di meno, i salari sono inferiori, le prospettive di carriera sono più limitate. Questo è in particolare vero in Italia, dove i divari di genere erano già accentuati prima della pandemia, dove in Italia meno di una donna su due lavorava, uno su tre al sud del paese. Il forte impatto della pandemia sul lavoro femminile è comunque dovuto in particolare a due motivi. Da un lato i settori in cui le donne sono occupati. Abbiamo visto la pandemia colpire soprattutto il settore dei servizi, dove le donne sono particolarmente concentrate come lavoro, mentre era diversa, per esempio, la crisi finanziaria, economico-finanziaria del 2007, che aveva colpito settori dominati dal lavoro maschile, come la finanza, le industrie. Il secondo elemento importante è quello dell'impatto che la pandemia ha sulla cura, in particolare pensiamo ai bambini, pensiamo alla chiusura delle scuole, tutto un lavoro di cura che tipicamente, tradizionalmente, nel nostro paese è più a carico delle donne che degli uomini. La pandemia ha accentuato il lavoro domestico e il lavoro di cura. Noi abbiamo svolto, insieme anche a delle ricercatrici, delle colleghe, del collegio Carlo Alberto di Torino, un'indagine che ha previsto un'intervista su un campione rappresentativo di mille donne italiane e di fronte alle domande sulle loro modalità di lavoro durante il lockdown, loro e del partner sull'ammontare di lavoro domestico, l'ammontare di lavoro di cura, abbiamo riscontrato che il lavoro domestico di cura è ricaduto soprattutto sulle donne, esacerbando quindi gli squilibri già esistenti. In particolare, prendiamo anche le coppie in cui entrambi i partner hanno lavorato a distanza, hanno lavorato da casa, il 65% delle donne ha aumentato il proprio lavoro domestico contro il 40% degli uomini. Un po' meno sbilanciato è il lavoro di cura dei figli, dove il 77% delle donne ha aumentato contro il 60% degli uomini. Quindi chiaramente questo è un peso che grava più sulle donne che sugli uomini, già era vero prima della pandemia e purtroppo si è esacerbato uno squilibrio, una simmetria che già esisteva. Eppure, per dare una nota comunque positiva, in realtà il lavoro a distanza potrebbe invece avere la capacità di coinvolgere di più gli uomini nei compiti della famiglia, cioè avrebbe anche la potenzialità di cambiare finalmente i ruoli perché gli uomini a casa si sentono più coinvolti. Prima della pandemia abbiamo svolto degli altri studi che dimostravano come il lavoro, quello che noi chiamiamo lo smart working, aumenta la partecipazione degli uomini al lavoro domestico. Però chiaramente si tratta di un processo lungo, di tipo anche culturale, difficile, che in un momento di emergenza come quello che abbiamo vissuto ancora non abbiamo visto mettersi in atto, con le conseguenze che sappiamo e con la conseguenza che ci dicono i dati, abbiamo già registrato 470.000 occupate e meno in Italia rispetto all'anno scorso. Caspita, la ringrazio veramente per la sua chiarezza e anche per la sintesi che è riuscita a darci dicendoci tante cose importanti. Io però vorrei aggiungere a chi, per chi ci ascolta, che la professoressa Profeta ha fatto parte della task force fortemente voluta dalla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, che è stata creata per analizzare, appunto, e dare risposte a questa precisa situazione. Si chiamava Donne per un nuovo rinascimento. E allora io, professoressa, le chiedo, il vostro lavoro ha prodotto una serie di proposte delle quali magari vale la pena dedicare un'intera puntata per parlarne. Però, ecco, se dovesse brevemente indicarci quali sono le azioni più urgenti da portare avanti, quali indicherebbe come prioritarie? E ancora, quali per una città come Milano, per far fronte a questa situazione di crisi che coinvolge così fortemente le donne? Certo, allora, sicuramente in questo momento abbiamo una priorità che è quella di valutare, e questo lo avevamo detto anche appunto nella task force, di fare un esercizio proprio di valutazione dell'impatto di genere delle risorse che stanno arrivando e che arriveranno da questo recovery fund al nostro paese. Perché queste risorse possano essere destinate, almeno diciamo in una parte consistente, al tema dell'occupazione femminile, investire sul lavoro delle donne, quindi sulla protezione, ma anche sugli incentivi al lavoro femminile, per esempio ai congedi per i padri, per coinvolgere, riprendendo il tema che dicevamo prima, ma anche gli uomini nel lavoro di cura e nel lavoro domestico, per gli investimenti alla prima infanzia, che tutti gli studi ci dimostrano essere l'elemento fondamentale per stimolare l'occupazione femminile. Quindi una attenta valutazione dell'impatto di genere, delle risorse che arrivano attraverso il piano del Next Generation EU, sicuramente va nella direzione auspicata, perché poi queste risorse siano destinate alle politiche che noi abbiamo suggerito e che serviranno per promuovere l'occupazione femminile. E in questo anche Milano chiaramente può indirizzare la sua azione, perché il principio che la parità di genere debba essere valutata in modo trasversale su tutte le azioni, su tutte le decisioni che vengono prese in questo periodo, a partire dai servizi e per arrivare alle scuole e a tutte le altre decisioni importanti che dobbiamo affrontare per far fronte alla pandemia, ecco, una valutazione appropriata dell'impatto di genere, penso che sia l'elemento distintivo che possiamo mettere in campo in questo momento. Grazie tantissimo, professoressa Profeta. Ci auguriamo di averla ancora con noi per qualche altra riflessione, in qualche altro appuntamento. Grazie davvero. E passiamo alla prossima testimonianza, che è altrettanto importante, perché ci ho fornita da una persona, una giovanissima donna, Vania Cuppari, bravissima, che fa parte dell'associazione Paloma 2000, un'associazione che gestisce il centro Milano Donna del municipio 8 al quartiere Gallaratese. Ecco, i centri Milano Donna sono stati fortemente voluti da questa amministrazione e stanno nascendo nei vari municipi, ma anche a questo argomento dedicheremo del tempo, perché è qui, sì, lo dico sfacciatamente, sono di parte, perché è un progetto che il sindaco ha voluto affidarmi e al quale tengo moltissimo. Buonasera, Vania, grazie anche a lei di aver accettato il vostro invito. Buonasera, grazie. Allora, ci racconta come avete cercato di far fronte durante la prima ondata della pandemia e cosa siete riusciti a realizzare nel centro Milano Donna? Sì, faccio una premessa. Quando è arrivata la pandemia, per noi era un momento molto importante, perché eravamo a ridosso della nostra apertura, proprio perché noi subentriamo in un centro Milano Donna che era già attivo e in cui c'è stato un cambio di gestione. Per cui avremmo aperto il centro Milano Donna il 2 marzo, avremmo fatto questa seconda inaugurazione che però purtroppo non si è potuta realizzare. Per cui il nostro lavoro in un primo momento è stato più arduo, perché abbiamo dovuto avviare le attività senza essere presenti sul territorio, quindi senza poterci presentare fisicamente per creare un nuovo giro di persone che frequentassero il centro. Tuttavia è stato un periodo molto intenso, in cui il lavoro è stato difficile, ma che ha dato molti risultati. Noi abbiamo supportato le famiglie del quartiere, della zona, intanto accompagnandole ai servizi preesistenti, in particolare ad un'attività che è stata realizzata proprio in collaborazione con tutte le altre associazioni del quartiere gallaratese, con a capo il progetto QB, la rete QB che ha come capofile l'associazione Mitades e abbiamo aiutato quindi tutte le famiglie che conoscevamo, che abitano vicino al centro Milano Donna ad accedere a questo servizio. Noi facevamo un po' da tramite e quindi tutti i giorni dicevamo delle chiamate di famiglie che avevano bisogno in primis di spesa, perché non potendo uscire di casa i mariti soprattutto hanno smesso di lavorare, le donne che lavoravano per lo più facevano dei lavori di cura non sempre regolari e hanno perso quindi il lavoro e allora le esigenze erano di prima necessità e noi le abbiamo aiutate ad accedere a queste opportunità primarie e in questo modo si è realizzato, si è creato un rapporto di fiducia determinante. La seconda attività importante che abbiamo fatto è stata aiutare queste persone ad ottenere un computer per i propri bimbi che erano costretti a fare didattica a distanza ma spesso erano sprovvisti e quindi facevano i compiti dal cellulare della mamma o del papà con a volte tre figli con un solo cellulare quindi con evidenti difficoltà e allora abbiamo avviato un progetto che abbiamo chiamato Porta il portatile in cui i cittadini di Milano hanno donato dei computer un volontario, il signor Mario Donadio li ha aggiustati gratuitamente e noi li abbiamo riconsegnati alle famiglie. E mi ricordo perfettamente il momento della consegna ancora con tanta emozione. Io so che nell'interregno anche se il tempo tra un'ondata e l'altra in fondo non è stato molto siete riuscite a solidificare le relazioni anche a crearne altre e allora le chiedo Vania come pensate di affrontare questa seconda ondata per aiutare le donne e anche per farle sentire meno sole? Sì, diciamo che se durante la pandemia abbiamo coltivato e installato dei rapporti di fiducia massima proprio perché rispondevamo a esigenze a prime necessità questo interregno ci ha aiutato ad avere dei contatti fisici e a rinsaldare sicuramente le relazioni e anche ad avviare dei percorsi come ad esempio i corsi di italiano che era molto difficile far partire online ed un altro corso che è attivo in questo momento un corso di autobiografia e teatro attività che sono difficilissime da avviare online grazie a questo piccolo spazio siamo riusciti a fare i primi incontri di persona e quindi continueremo adesso in modalità online dopo che abbiamo anche spiegato come accedere come scaricare le app laddove fosse necessario continueremo appunto con quest'ultimo corso di autobiografia online e che con il quale faremo anche l'evento di Booktiti venerdì 13 e con il quale speriamo di concludere il percorso con una piccola performance probabilmente virtuale proprio in occasione della giornata contro la violenza di genere il 25 novembre speriamo perché è appunto in itinere faremo due corsi di italiano rivolti però anche all'acquisizione di strumenti e nozioni digitali e poi un corso di italiano basato però sulla patente perché è stato richiesto dalle donne del quartiere di essere aiutate nella teoria per poter prendere la patente e poi abbiamo tutti gli sportelli abbiamo avuto la possibilità di avviare lo sportello psicologico di counseling di ricerca del lavoro uno sportello anticrisi e quindi tanti piccoli sportelli e di ascolto che sono importantissimi e che sicuramente adesso che ci siamo viste in volto sarà più facile poi portare avanti solamente tramite telefono insomma un sacco un sacco di lavoro importantissimo la ringrazio tanto Vania penso che anche con lei riprenderemo certamente il discorso e una puntata la dedicheremo proprio ai nostri centri Milano Donna sparsi sul territorio che vogliono proprio dare dei riferimenti a tutte le donne milanesi a partire proprio dalle periferie e però purtroppo il nostro tempo adesso è terminato e allora io ringrazio chi ci ha seguito se vorrete farlo ancora la settimana prossima affronteremo un altro aspetto di criticità ulteriore per le donne durante questa pandemia cioè l'accesso ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva e la salute in generale della donna allora grazie ancora e buona serata a tutte e a tutti voi grazie